Fun! Numbers! Adesso faccio come nei film! Ma non farei birra! Ma che ca... Com'è possibile? Ah, che bella pescata senza nessuno che ti rompa le palle! Ma che ca... Ah, non vedo l'ora di tornare a casa lì! Oh, ma... Ehi, cosa stavi dicendo, amico? Tutto ok? Eh, sì, ho solo perso qualche... Ah, beh, ok. Allora, tutto a posto. Allora, vediamo. Ho perso qualcosa, ma non ricordo esattamente cosa. Forse la pistola? Signora! Vediamo questo... Signora! Così, signora, questo è il suo portafoglio! Ah, ma chi cazzo? Vabbè, la pistola ce l'ho. Ehi! Ehi, voi! Guardate come sono bravo! Dai, guardatemi forte! Datemi una molettina! Ho bisogno che la mia famiglia mangi! Mi prego, guardatemi! Guarda che fisico! Altro che unicaki! Avanti, su! Datemi qualcosa! Su, forza, ragazzi! Perdi qua! Non perdiamo altro tempo! Ehi, ehi! Occhio all'albero, eh! Mi raccomando! Quale albero? Quello! Ah... Dovresti smetterla di bere quando vai a cavallo! Ancora con questa storia! Guarda che non sei in Dragon Ball! Non lo sa! Aaaaaaaaaaaaaaah! Ecco appunto! Ciao ragazzi! Se anche questa seconda parte del video di Red Dead Redemption vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto e mettete un bel pollicezzo su! Noi ci vediamo domenica, come sempre! Non mancate!